Allora ragazzi e ragazze votatemi se volete vedere un nuovo diciamo Pippo Baudo, Paolo Bonolis, insomma i miei riferimenti come presentatori e spero mi votiate insomma in tanti, non so cosa dire d'altro, vi voglio bene, godetevi il Occhio Pavese e Jump TV Grazie mille! Se vuoi ripescare questo talento clicca ora mi piace al post originale del video oppure condividilo